Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Un po' in ritardo Come sempre io sulla tabella di marcia non riesco mai ad essere puntuale Mannaggia me Comunque è uno di quei video che mi chiedete sempre tantissimo Il primo l'ho realizzato due anni fa E vi è piaciuto molto E avete continuato a chiedermi questa tipologia di video Il fatto che io non la faccia è perché io sono sempre prendemente in ritardo Quindi quest'anno che arriva Penso di voler realizzare questo video come rubrica mensile Spero davvero di riuscire ad essere puntuale Voi sgridatemi Comunque se vi piace questa tipologia di video Lasciate un mi piace al video Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale E se volete aiutarmi a crescere Condividete questo video con quante più persone possibili Comunque come già avete visto nel titolo di questo video Oggi andiamo a creare l'agenda di Natale Questa è la prima pagina che non è neanche a fuoco Ok, la vedete dopo E niente Comunque se è tutto andiamo subito al video Dunque come prima pagina vado appunto a realizzare la copertina E come vi dicevo prima quella di oggi sarà l'agenda dedicata al Natale Quindi tutto ciò che ha a che fare con il Natale Per organizzare al meglio appunto questo periodo di Natale Le vacanze, le feste, i pranzi, i regali e tutto quanto Quindi vado a scrivere il titolo appunto sulla prima pagina E poi la vado a decorare un pochino Questa volta ho scelto di realizzare l'albero di Natale E dopodiché vado a realizzare una cornicetta Alla quale mi sono ispirata alle candy canes Che sono quelle classiche caramelline di zucchero tradizionali del Natale Insomma Ed infine vado a colorare il tutto Incomincio dalla cornicetta Per poi passare all'albero di Natale Infine vado a cancellare con la gomma Tutti i segni che mi ero fatta prima insomma con la matita E questo lo vado a fare per ogni pagina Poi girando a pagina vado a realizzare il calendario mensile Io ho bisogno assolutamente di un calendario mensile Di due pagine in cui ho tutto sott'occhio In cui a prima vista riesco a vedere quali sono tutti i miei appuntamenti del mese E riuscire ad organizzarmi al meglio Per fare questo calendario appunto uso due pagine Realizzo una griglia in cui poi andrei ad inserire appunto i giorni del mese A lato ho inserito appunto gli obiettivi del mese In basso ho realizzato lo spazio per le note Eventuali appunti o cose che dovrei fare o potrei fare insomma idee E sulla sinistra ho ovviamente messo il nome del mese Che è dicembre in questo caso Per la prossima pagina ho scelto di realizzare Una bucket list che in italiano sarebbe una lista di cose da fare E questa volta appunto è dedicata al Natale, all'inverno Ecco quindi realizzo un cerchio a centro pagina Per realizzare il titolo della pagina come sempre E poi tutto intorno vado a scrivere quelli che potrebbero essere delle cose da fare Delle attività da fare insomma divertenti, piacevoli Durante le vacanze di Natale o comunque durante l'inverno Per esempio ho scritto camminare sotto le luci di Natale Che è una di quelle cose che faccio ogni anno e che mi piace un sacco Fare l'albero di Natale, andare a vedere i presepi Bere la cioccolata calda, fare il calendario dell'avvento Incartare i regali, scrivere la lettera di Babbo Natale Vedere il falò, creare delle candele di Natale Giocare con la neve o patinare sul ghiaccio Creare la calza della Befana Preparare la casetta di pan di zenzero Fare i regali, guardare i film di Natale Preparare i cookies Fare le foto con Babbo Natale Ascoltare le canzoni di Natale Preparare i biglietti d'auguri Insomma tutte cose che mi piace fare Che mi diverte Che sono una sorta di tradizioni per il Natale Nella pagina in parte Ho scritto anche la lista dei film di Natale da guardarci Ci piace durante il periodo natalizio Passare i weekend o comunque i giorni di vacanza A guardarci questi film tradizionali del Natale Io per esempio ho scritto un classico Che è Mamma ho perso l'aereo Poi Polar Express Che è uno dei miei cartoni preferiti Il Grinch Christmas Carol Mary Poppins La Bella e la Bestia Frozen Insomma tutti i film che potremo guardare Durante l'inverno o il Natale Che andrò man mano a cancellare dalla lista Girando pagina ho realizzato la mia wish list Con i regali che potrebbero piacermi per Natale Insomma che mi farebbe piacere ricevere a Natale Ho scoperto solo ultimamente che la wish list è una cosa molto 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 utile Onde evitare regali inutili o regali doppi E per realizzare questa pagina ho scelto di decorarla con dei pacchi regalo Quindi ho realizzato tanti piccoli pacchi di diversi colori e di diverse dimensioni E all'interno di ogni pacco poi andrò a scrivere quello che potrebbe essere un'idea regalo da farmi A fianco invece ho realizzato la tabella per i regali invece che devo fare io Che penso di fare io insomma E ho realizzato una griglia in cui scrivo il nome sulla prima colonna della persona a cui devo regalare il regalo E poi sulla seconda e terza colonna vado a scrivere il budget che mi sono prefissata E poi la somma che realmente ho speso Il nome del regalo per non dimenticarmelo Comunque le idee dei regali che penso di fare Il negozio dove posso trovare questi regali qui E poi in fondo ho realizzato una sezione dove spuntare poi se ho già comprato il regalo Se per caso l'ho ordinato Se è arrivato, se l'ho incartato, se l'ho consegnato o se ancora che gira per casa Ecco Nelle pagine successive vado a realizzare il planner per quanto riguarda i viaggi che andremo a fare Durante le vacanze di Natale Per fare questo nella parte alta appunto ho realizzato il disegnino Dove da un pupazzo di neve c'è la macchina che corre via insomma Ma è così giusto per decorare un pochino E sotto ho realizzato delle etichette Dei cartellini e ogni cartellino verrà dedicato ad una metà diversa Per ogni cartellino ho scritto la data presunta del viaggio Quella in cui abbiamo intenzione di partire La destinazione I soldi La spesa massima e spese varie La somma che poi effettivamente andremo a spendere E poi in caso dove l'ho prenotato Se ho prenotato e se ho ricevuto la conferma Quindi se è tutto a posto per partire Le prossime pagine sono anche qua doppie L'ho pensata per il menu di Natale In realtà quando ho realizzato l'agenda pensavo di passare il Natale a casa Poi invece ho ricevuto un invito E quindi alla fine queste due pagine non le utilizzerò Ma vabbè almeno le userete voi E sulla pagina di sinistra vado a realizzare appunto un disegnino Con una ghirlanda dalla quale cadono Dalle quali sono appese delle palline E ogni pallina appunto è una lettera Sulla parte sinistra vado a realizzare anche qui dei cartellini appesi E per ogni cartellino c'è una portata Quindi antipasti, secondi, aperitivo, dolci, primi, contorni, digestivo E su questi cartellini vado a scrivere quelli che potrebbero essere Che saranno comunque le portate del pranzo di Natale Della cena di Natale E sulla pagina a fianco invece vado a realizzare una griglia In cui vado ad organizzare un po' appunto questo pranzo o questa cena Le prossime pagine sono pagine che magari voi utilizzerete un po' meno Però potete modificarle in base ai vostri appuntamenti E al vostro lavoro in casi E ho realizzato appunto quello che sarà il planner di dicembre Per quanto riguarda le vacanze di Natale Quindi quelli che potrebbero essere i video che devo realizzare in questo periodo E i post di Instagram e i video di TikTok Questi due social questo mese li ho completamente dimenticati perché non ho tempo Per quanto riguarda YouTube ho comunque realizzato una sorta di scaletta Dove appunto ci saranno i prossimi video che penso di realizzare Anche se già qualcuno ho dovuto saltarlo per mancanza di tempo O per inconvenienti vari Per quanto riguarda la pagina successiva è la mia preferita in assoluto Ed è quella dove vado a realizzare il calendario dell'avvento nell'agenda appunto E vado a realizzare un albero di Natale Dove ogni fila di ramo appunto rappresenterà un giorno del mese Partendo dall'uno fino al 25 che sarà appunto la stellina in alto E poi in mezzo ci ho aggiunto anche qualche decorazione E anche quelle saranno dei giorni del mese E praticamente appunto vado a numerare infine il mio albero E poi vado a colorare ogni giorno il numero corrispondente L'ultima pagina è quella dedicata alla lettera di Babbo Natale Dove appunto scrivo i miei pensieri e anche i miei auguri per voi Caro Babbo Natale Io non voglio un anno pieno di cose strabilianti e fantastiche Desidero un anno finalmente sereno Fatto di piccole cose, semplici e concrete Desidero un anno come quello dei vecchi tempi Dove alzarsi al mattino non era come se dovessimo affrontare un'altra guerra Ma una nuova giornata Desidero un anno con più pace, meno dolore e arrabbiature Un anno più sereno e vero A chi amo e a chi mi vuole bene invece Auguro tutte le cose belle che la vita ha da offrire Auguro di rimanere persone semplici e sensibili Per guardare la bellezza delle cose e per provare grandi gioie Soprattutto nelle piccole cose di ogni giorno Auguro di diventare coraggiosi per avere la forza di lottare contro le immancabili difficoltà Auguro la speranza per vivere ogni giorno la vita pensando positivamente Auguro di diventare spontanei per essere in grado di dare agli altri Senza pretendere o aspettarsi nulla in cambio Con affetto, Selena E niente, questi sono i miei auguri per questo Natale Finisco con il decorare la pagina con una stella cometa e un po' di neve E niente E niente, con questo è tutto Io spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace al video E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Io vi auguro tanti tanti auguri di buon Natale E niente, con questo è tutto Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video Ciao